Benvenuti o benvenute, bentornati o bentornate in un nuovo Mook Bang Nuovo più che mai perché non so se vi siete accorti ma sono più alta Non lo so voglio provare e ho un altro microfono e devo capire, cioè non so quello che sto facendo stasera A parte quello che sto mangiando, cioè sto mangiando, stiamo per aggiungere Per aggiungere, ci stiamo aggiungendo, ci stiamo aggiungendo a mangiare una schnitzel con le patatine fritte e la maionese Sono stata in giro giorni, l'ho già detto in un altro video che ho gelato ieri sera Ho preso tanto, ma tanto, ma tanto, 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 tanto di quel freddo Ho ballato nella neve e ho tirato i tempi di Berlino che non ballavo nella neve Comincio a mangiare intanto E a parte il disclaimer del microfono Mangio con le mani Mangio con le mani perché voglio mangiare con le mani Perché la regina Margherita mangiava il pollo con le dita Perché non era vegana Io mangio la schnitzel vegana con le dita Quindi maniche su Solo mia mamma Chi la sente E Noi la cominciamo questa avventura di questo mukbang Muk mukbang Con il Tascam Dicevo Era dai tempi di Berlino Che non ballavo nella neve Un freddo Fotto Voglio far farla vedere perché è la mia preferenza Aspettate Prendo la confezione Hello boy Siamo venuti qui dall'Illinois Sarei che tanto vino qui in questo No Cioè è arrivato il Da da un pa Da da un pa Da da un pa Un pa Dilla fábrica di cioccolato Dilla fábrica di cioccolato Non mi ricordo Che cosa mi sono Alzata a fare Alla confezione Mannaggia a me E alla mia ordinatezza Ho già buttato Ho già buttato la confezione Perché era l'ultima Ho freddo in realtà Cosa stavo dicendo Ho mangiato troppo poco In questi giorni Stavo dicendo che questa era la mia preferita E questa è la marca del Carrefour Comunque è una marca basica Basic Basica Del Carrefour Comunque A parte A parte il fatto che L'ho preso un sacco di freddo Mi sono stra divertita Mi è stra servito Non so se metterla maionese Anche su No Mettemelo solo sulle patatine Mi è stra servito come weekend Con tre persone Stra carine A cui voglio un sacco di bene Quindi A proposito Di persone Stra carine A cui voglio stra bene Notiziona Torno in Italia Per Natale Dopo non so Quanti millenni Sono millenni Che non passo il Natale Un pochino a me Che non passo il Natale Con la mia famiglia Perché ho sempre lavorato Più degli altri giorni A Natale E l'anno scorso Mannaggia a me Sono andata a Roma Mannaggia a me Infatti Queste patatine Sono venute male Perché Ho spellato a prenderle Invece che prendere Quelle Normali Ho appreso quelle per il forno E nella fricciatrice d'aria Sono venute Praticamente E E sono uguali A quelle Del kebabaro E la cosa Che mi è venuta in mente È stata Che quando ero A Roma Niente Niente Nessun problema Con Roma Roma Io Potrei viverci forse No forse è troppo grande Per me Troppo grande Troppo traffico In realtà Per spostarmi Guarda le cose Troppa gente In giro Turisti Cose Cautica Molto caotica Però Bella Bellissimo c'è giri con la macchina a Roma e ci sono delle cose fantastiche da vedere una dopo l'altra e c'è così normalmente cammini stavo guidando e mi sono girata e c'era il Colosseo e ovviamente ho pianto come quando ho visto i delfini in Egitto e cosa stavo dicendo io quando non mangio abbastanza non riesco a connettere niente che quando ero a Roma abbiamo parcheggiato per prendere qualcosa da bere in un palettino e davanti a me c'era un kebapparo che ho scritto proprio kebapparo con due B ho riso all'infinito ma basta via voglio 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 quell'acceggio di 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 mer in black voglio quell'acceggio di mer in black che cancella la memoria vabbè donna I will not hold grudge non riesco a neanche dirlo solito a volte ce la faccio ma ho la bocca pirati schnitzel comunque nel senso non porto rancore o cose del genere mi sono anche divertita la festa quindi chiudiamo questo discorso è colpa delle patatine del Natale scorso che parla che è Natale all'ultimo dell'anno che piantano piantano le piccole nella manica è di foto di il il la è il 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 tra l'altro potevo prepararmi qualcosa di sano invece la 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 non se ne occorre di sentire l'audio che tasca, non è strasensibile ma anche no non mi sono fatti da comprendere la tasca, devo comprare ma non posso, ma non euro per queste cose in questo momento ma devo comprare le bonette come si dice in italiano non così vabbè il pop filter sicuro se lo voglio usare così il mio microfono preferito il tasca se è proprio lo adoro un fedecismo per le tasca però non so è più però altri tipi di video in realtà almeno con me con le altre mi piace con tutto tipo qui non capisco mai come si chiama non mi ricordo mai come si dice adesso meno che meno loro lo usano lei lei lo usa lei perché non so che pronomi preferisce vabbè dirò lei si sta guardando scusami lei lo posiziona stra bene si sente stra bene io non lo so devo provare lei non so che non 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 Grazie a tutti. ma tra l'altro sto pensando adesso che faccio perché non so neanche se sono ancora truccata se il trucco se n'è andato qualcuno di voi ha visto il commento? qualcuno di voi ha visto il commento che mi è stato fatto sotto il video sotto il video dei pokemon se riesco a lo metto qua non mi ricordo comunque ha scritto nel 2023 le macchine voleranno senza neanche puntini 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 tra virgolette 2023 riferito a me che faccio assieme con le carte dei pokemon è stra offensivo in realtà per una persona come me perché i pokemon fanno parte del mio mondo se riesco vi metto anche una story qua perché farete riguardo i pokemon nel mio mondo ok finiamo questo e ci salutiamo che buona 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 ho detto talmente tante cose che non so neanche quello che ho detto ma il problema è anche che sono un po' cioè non so cosa succederà non so cosa sarà di questo video con il tasca che buona sono anche un po' emozionata per quello con il tasca per il tasca e voilà cena pranzo colazione al pranzo al sacco pranzo al sacco fatto io mi sa che vado a vedere questo video come è venuto grazie per avermi fatto compagnia grazie per aver scelto il mio video tra gli altri grazie per il supporto se volete iscrivetevi se volete mettete un like se volete mettete un dislike e noi ci vediamo in un prossimo video e niente basta con lo sguardo passito vado a vedere che cosa ne sarà di questo video grazie per aver guardato il video grazie per aver guardato il video grazie per aver guardato il video